ciao ragazzi andiamo a fare un giro alla mia camera aveva park ragazzi qua siamo nel corridoio dove ci sono tutte le camere la mia situata nel mezzo adesso vi faccio vedere ecco ragazzi speriamo sia in ordine come potete vedere la la camera è davvero confortevole nel senso non manca niente abbiamo una vista spettacolare sui campi d'allenamento questi qua per ora non sono pronti ma saranno pronti a breve come potete vedere sono uno spettacolo abbiamo la fiorentina addosso perché sono tutti i dettagli le lenzuola i cuscini tutte le frasi che che ci appartengono e poi c'è tutto qua c'è la la mia playstation dove passiamo un po di tempo per per divertirci questa è la mia presso terapia che faccio per recuperare dopo le sedute che qua in ritiro sono abbastanza abbastanza impegnative la camera il letto sono spettacolari sono veramente confortevoli quindi è bello poter poter essere qui avere ed è un privilegio avere tutte queste comodità diciamo a partire dal ristorante dalla palestra dalle camere è veramente uno spettacolo questo della parte ragazzi adesso non mi resta che andare a riposare ci vediamo dopo in campo un abbraccio e 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